Bianco rossa, Sebastian Guerrieri, questa è la finale dell'ascensione 2005, Giovanni Formica, Spirit, Sebastian Guerrieri, partito meglio, Spirit, cavali sulla stessa linea con Spinaz, mezza incollatura di vantaggio nei primi 150 metri, c'è Spinaz in avanti, ma subito il ritorno di Spirit che non vuole perdere assolutamente la scena l'avversario, siamo ai 250 iniziali, ancora Spirit, solamente abbraccia i due fantini, Spirit a destra del teleschermo che sembra avere la meglio in questi primi 250 iniziali, Giovanni Formica fuori l'andatura, siamo a metà percorso con Spirit, leggermente in avanti, una mezza incollatura di vantaggio per Giovanni Formica, il ritorno, mette mano alla frusta, Sebastian Guerrieri, una mezza incollatura di vantaggio per Giovanni Formica, siamo ai 250 conclusivi, ancora Giovanni Formica con Spirit in avanti, 150 il ritorno di Spinaz, Giovanni Formica con Spirit, c'è il ritorno, si alza in piedi, Giovanni Formica, Spirit, 50 metri, ritorno di Spinaz e forza Spirit, forza Spirit, forza Spirit, vediamo il foto finish, stava combinando Giovanni Formica, vediamo il foto finish, allora a questo punto, attenzione, chiamo immediatamente il direttore di corsa, in modo sportivo ai proprietari e ai pantini, complimenti ancora, si chiude qua questa ascensione 2005, ci vediamo alle 21.30 per la premiazione.